Oh buongiorno amici miei, ma guardate che bel sorriso che c'ho stamattina, mi son fatto lo sbiancamento solo per voi, perché ci ho detto se devo sorridere devo avere un bel sorriso, bello, luminoso, come il buongiorno che vi voglio dare, e allora ragazzuoli, una buona giornata a tutti va, ciao, statemi bene.